Ascolta, simpatia, io voglio sapere cosa ne pensi da commerciante e un po' da meregano in Italia di questa possibilità paventata dal Comune di prolungare a un mese la presenza dei banchini tirolesi in Piazza Vasari. Allora, io ti rispondo e sono orgoglioso e felice che te mi abbia fatto questa domanda, però ci sono due punti che io devo prima chiarire. Spiegali allora. Sì, ve lo dico, innanzitutto te mi hai chiamato commerciante, mentre io ho visto le fermatiche, i veri commercianti sono differenti, hanno un aspetto fisico vecchio, cappello tirato dietro, occhiali. Tipo? Ma non è il tipo, è l'ultimo, ora io non so chi sia, ho visto una persona... Mauro Peloni l'ho intervistato. Mauro? Sì, è un tuo collega, è amico. Sì, ma questo allora non è più un Mauro Peloni di una volta, perché mi ricordavo Mauro Peloni un ragazzo, bel ragazzo, braccio... Sì, Luciano, su. Lui è inventato pareggio, va bene, ma a parte questo... Lui è per l'isola pedonale. Lui è per l'isola... Tu sei... E lui è sempre stato uno di quelli famosi, però, a lui gli è piaciuto sempre fare il famoso, questo comune che vuole paventare, lui... Il mercato dei tirolesi, tutto il mese, e la fiera Antiquana dove la fanno in Tirolo? Bravo, questa sarebbe una buona idea, però questo mercato quando lo fanno a ottobre? Sì. Ottobre giustamente loro lo vogliono fare tutto il mese, perché devo dire la verità, le previsioni del tempo sono ottime, perché questi tirolesi non sono quelli con questi pantaloni corti... Sì, si stanno iniziando su... Bravo, bravo, bravo... Non te lo so dire, giustamente oggi c'è questa globalizzazione, il Tirolo che vuole venire un pochino più verso di noi, come del resto, gli altri che vengono verso... Ma verso di noi vengono tutti, o quanti sono che vengono da noi? Tutti verso di noi, ma noi... Tra un poco ci arriva i migranti dal sud, i tirolesi dal nord, noi ora abbiamo solamente il Tirreno e l'Adriato. Noi siamo da un pezzo tirolesi, nel senso che non ci tira più, perché gli audiolesi non sentono, i videolesi non vedono, i tirolesi non li tira, capito? Donna ragazzi, è una cultura... Quante parole ho imparato tutti oggi? Dopo, o dove non me ne ricordo, ma me ne potresti spiegare per favore?